Buongiorno a tutti e a tutte, ragazze e ragazzi. Siamo qua anche quest'anno. Quest'anno si correrà con un'app questa maratona particolare. Non sarà quella di sempre, però voi state dimostrando veramente una grande forza e un grande coraggio. Studenti di medicina, medici, impiegati e dirigenti del Banco Popolare, siete veramente fantastici. Quest'anno ancora siete qui e fate il vostro sforzo attraverso questa vostra capacità di correre in una giornata come questa, anche da soli ma solo attraverso la app, riuscite a contribuire a quel risultato che ogni anno otteniamo. Grazie, voglio dirvi grazie con tutto il cuore.